Da un senso, sai, di predetta, di distacco dell'umanità quando dicono trans, gay, ma guarda, senti Gianni, io la prima parola che ho sentito quando sono arrivato a Napoli, io ero il 49, avevo 12 anni, ti lascio immaginare, se non che quando sono salita sui quartieri, si è sperduta, sui quartieri spagnoli, incontrai un personaggio, diciamo, era una prostituta in parole focche, lei mi guardò distranamente, io la guardavo perché avevo fame, dice a me, che fai la fumone? Io sai, questa parola mi rimasta talmente impressa, fumone, io sai, che può dire? Io non capivo ancora le parole napoletane, sai, ma tu ti sentivi già un femminello? Ma io sono nato, sono nato e sono rimasto tale e quale, hai capito Gianni? Quindi non capisti la parola perché detta in lingua napoletana, però, però intuivo che era qualcosa di carino e mi piace. la verità, sai. Quindi tu non vuoi essere definita trans, transgender? No, 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 perché mi pare che dà un distacco, se io dico a te gay, che cosa? E perché molti gay si offendono se dici fumone? Ma perché sono stupici, se capiscono la valora di calore che dà fumonella, se l'accorgerebbe, vedi che distacco? Se io dico fumonella, come calda, gay, mi pare un distacco, trans, un atranto atlantico. Non si finisce mai di imparare, ma la saggezza della Tarantina mi impone quantomeno di sottoscrivere perché capisco dove vuole arrivare. Insomma, i fatti della vita, capito? E soprattutto di come è cambiata Napoli. È cambiata? Ahah, ma sta scherzando. Tu sei arrivata nel 49. Il 49, è finita la guerra, ti lascio immaginare. Sì, sì. Era un paese, sai, dove è successo questo film? Fatto di scassi. Fatto di Sara. Come no? Ecco, si è messa in luce solo adesso. Ma allora, sai, c'era questo. Quindi, arrivata a Napoli, la città ti sembrò meravigliosa? Ma stupenda! Io non immaginavo che vivevo, non credevo che sognavo. Perché arrivai il giorno della piedigrotta a settembre. C'era una figura di mamma! C'era un'immensità di luce, tanta festa e tanta allegria. E dimmi una cosa, fu proprio nel corso di questa festa che per una volta, insomma, facesti l'amore? Perché so che succedevano fatti esagerati a piedigrotte, insomma. A piedigrotte? No, Gianni, guarda, la verità, la prima serata che io ho trascorso a Napoli, l'ho vissuta a maschio angioio, dormi là per strada. Se non che durate la notte, io avevo... Si venne a svegliare qualcuno? Le guardie. E con le guardie avessi chiesto la notte? No, 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 no. Fui un rapporto di un... Città già dice, non lo so, un pesce vendo, uno che portavo... Ah, sì, un lavoratore notturno. Ecco, notturno. Sai, si offriva, mi dite un po' di cibo, allora io sai... Per ricambiare, no, volevamo capire quale è un punto sessuale in città? Quella notte, quando arrivassi... Quello è stato proprio in un tappo di... Appena arrivati. Appena arrivati, sì. Mi portai uno... Sai, dove c'è, diciamo, il ponte di Tappia, quei palazzi non esistevano quando ero io. Ero stati bombardati. E quindi ci si poteva infrattare. E così mi tratterete un poco di là, ma però cose di ciocchette. Non è, diciamo, un amore... È un petting, petting. Tu sei. Ma non andiamo oltre. No, figurati. Ho chiesto alla Tarantina qual è la prima canzone napoletana che subito ti rimanda al momento in cui sei arrivata in città. E mi ha detto un titolo, ragazzi, mi si è aperto il cuore. Questa, Coro Furastiera.